un caro saluto a tutti bentrovati ancora su metapolitics vi ricordo che potete seguire i video sia su youtube che su daily motion continuate sempre a iscrivervi e a supportare il canale un interessante spunto di riflessione viene oggi dalla lettura di un articolo del guardian online in cui il guardian mette in guardia dal risorgere di un certo nazionalismo in particolare per quanto riguarda la questione demografica cioè il concetto del cosiddetto rimpiazzo etnico o sostituzione etnica dei popoli europei il guardian se la prende in particolare con orban perché secondo il guardian orban avrebbe teorizzato il fatto che la le donne ungheresi sono in prima linea per combattere il declino demografico dell'ungheria e dell'europa in generale e quindi per il guardian questo è sbagliato questo è un sintomo di un nazionalismo cattivo oltre a questo il guardian sottolinea che imporre le nascite alle donne e significa la riduzione dei diritti delle donne a scegliere quello che è quella che è la propria volontà in questo articolo però ci sono alcuni errori che io vorrei mettere in discussione vorrei sottolineare innanzitutto il fatto che in ungheria ci sia un nazionalismo pericoloso ecco noi prima di tutto dobbiamo chiederci se quello che c'è in ungheria è davvero un nazionalismo nel senso pieno del termine in secondo luogo una volta appurato se questo è davvero un nazionalismo populismo o in caso contrario non lo è una volta appurato questo possiamo andare avanti nell'analisi quindi questa è la prima cosa che noi dobbiamo chiederci in secondo luogo dobbiamo mettere in evidenza un'altra cosa per quanto riguarda la crisi demografica perché è indubbio che in europa ci sia una certa crisi demografica nel senso che dipende da come guardiamo la situazione se intendiamo crisi con il fatto che non nascano persone indubbiamente in europa e soprattutto in europa dell'est c'è una crisi demografica cioè il tasso di natalità è basso rispetto per esempio ad altre aree del mondo su questo non c'è dubbio ora per risolvere questo problema ammesso che lo si voglia risolvere non è che ci sono metodi magici ci sono due modi per risolvere questo problema cioè per fare in modo che un popolo per dirla in maniera più articolata per fare in modo che un popolo possa mantenersi come comunità come etnos ci sono semplicemente due cose da fare o si aumentano le nascite oppure se non si aumentano le nascite bisogna fare in modo che quel popolo venga protetto il più a lungo possibile chiaramente un minimo di nascite necessario perché altrimenti quel popolo si estinguerà in maniera naturale però da siccome le nascite non sono a livelli del passato e subiscono una contrazione questo fatto deve essere collegato anche alla salvaguardia della comunità in modo tale che quella comunità possa mantenersi per lungo tempo o perlomeno il più a lungo possibile questo è quello che viene messo in luce nei paesi dell'est leggevo poi anche che il l'ex primo ministro australiano tony abbott ha sottolineato quanto importante sia per l'europa e per alcuni stati europei una politica demografica che tenda a salvaguardare il proprio popolo però questo vedete per quotidiani come il guardian per per i media come il guardian è qualcosa di negativo dunque vediamo un attimo nella nella sostanza nella sostanza è questo per il guardian la fermare l'immigrazione non si può perché fermare l'immigrazione va contro i diritti umani e questo ormai l'abbiamo capito in tutta europa no cioè l'immigrazione non si può fermare non la si vuole fermare non la si deve fermare quindi questo è qualcosa di negativo aumentare le nascite dei locali delle comunità locali non si può perché significa andare a ledere i diritti delle donne a scegliere il proprio destino ecco quindi anche questo è sbagliato allora chiederei al guardian che cosa bisogna fare perché io a questo punto se il guardian non mi dice non mi propone nessuna alternativa io devo ipotizzare che al guardian faccia piacere che si metta in pratica quello che chiama il guardian stesso rimpiazzo etnico perché se le nascite non le vuoi incrementare se i confini non li vuoi proteggere o comunque non vuoi adottare una legislazione che limiti fortemente l'immigrazione allora a quel punto io penso che non resta nient'altro che quel processo inevitabile di scomparsa di una comunità e io quindi però proposte da guardian e dal da altri mezzi di comunicazione di quell'area politica non le sento non le vedo ripeto non ci sono soluzioni miracolose o miracolistiche ci sono semplicemente due cose da fare proteggere la comunità e fare in modo che le nascite possano aumentare probabilmente in un futuro quando cominceranno a clonare degli androidi si troveranno soluzioni di questo senso cioè si costruiranno le comunità a piacimento ma adesso che questa cosa non è ancora implementata la soluzione è quella o si aumentano le nascite oppure insieme all'aumento delle nascite si proteggono i confini queste due cose però secondo il potere sono impossibili non si possono non se ne può parlare se si prova a come dire mettere in agenda una serie di azioni politiche o legislative per cercare di salvaguardare la comunità si ricorre all'ideologia vedete tutto viene buttato in ideologia cercare di salvare una comunità viene letto come una un attacco al diritto della donna a non fare figli ma intendiamoci la donna tutti i diritti di questo mondo però ciò non toglie che se non si fanno figli praticamente una comunità scompare perché come ho detto prima la comunità si può preservare si può proteggere fino a un certo punto ma poi se non c'è se non ci sono nuove generazioni la comunità scompare quindi il fatto che ci siano dei diritti non toglie che il problema rimanga i diritti possono esistere e possono essere esercitati ciò non toglie che se quei diritti vengono esercitati in maniera cospicua e costante praticamente una società andrà a scomparire evidentemente il fatto che società come quella ungherese come quella di altri stati in crisi demografica scompaiano per i media come il guardian non è un problema non è assolutamente un problema perché evidentemente il guardian sa come sostituire quella comunità con un'altra il mondo non è fatto di etnos cioè di comunità che sono legate al territorio da tradizioni da lingua da costumi da elementi biologici ma è una specie di puzzle con gli elementi interscambiabili dove in un determinato territorio possono essere messi tutte le comunità che vogliamo perché non cambierebbe nulla questo è il pensiero di base di chi ha questo approccio non esiste il problema perché perché il concetto stesso di etnos non viene riconosciuto l'etnos è semplicemente un gruppo di persone accomunate da una cultura alquanto superficiale che però può essere sostituita cambiata rimpiazzata con un'altra ecco perché questi signori non riescono a comprendere cosa significa fare delle politiche che tendano alla salvaguardia della natalità o di un certo grado di natalità e alla salvaguardia della comunità in quanto tale non possono capirlo perché negano l'essenza stessa della comunità cioè l'etnos noi invece riteniamo che l'etnos esista cioè che la comunità esista che sia qualcosa di importante che sia qualcosa non solo di importante ma fondamentale e come ho detto anche in un precedente video è la base dovrebbe essere la base di qualunque azione politica culturale e sociale